Oggi sono molto felice che tutti i ragazzi abbiamo dimostrato che abbiamo un coraggio e abbiamo la forza dentro. Siamo entrati in una partita con un atteggiamento giusto e abbiamo fatto una bella partita lottando per ogni palone e facendo una bella prestazione. Sono molto contento che in questo periodo difficile abbiamo dimostrato che ci siamo. Da un po' che ho aspettato questo gol ufficiale, non lo so, sono ancora ammazzinato. Ho pensato solo che sono felice perché ogni giorno lavoravo per arrivare a questo momento di rientrare al campo e fare gol. Questo giorno è oggi, aiutando la squadra, poi battendo una squadra forte, quindi oggi ce la godiamo. Mi dispiace per Salsa perché è un bravissimo ragazzo, lavora sempre duro, quindi mi dispiace che sia successo. Ma come ho detto, è un ragazzo bravo, forte. Lui rientra sicuro, è più forte di prima, quindi siamo tutti con lui e speriamo che va tutto bene con l'operazione. Questo gol lo dedico a me e alla mia famiglia che è stato tutto questo periodo con me. Mi ha sempre creduto e grazie a loro sono oggi anche qua e posso vivere questi momenti bellissimi. Sicuramente sono molto contento per tutta Bari che finalmente può godere questa vittoria dopo qualche partita. Oggi è un passo, oggi era un momento che aspettavo da tantissimo, ma ora è un nuovo inizio e devo dimostrare che sono veramente tornato. Però per me non cambia niente, nel senso che faccio sempre il lavoro come ho fatto finora, che mi ha portato qui. Lo farò sempre per dare il massimo e per aiutare i ragazzi a campo. Sono arrivate tantissimi messaggi, perché è da un po', quindi sono tanti messaggi che non ho ancora visto, ma per questo sono molto felice. C'è tantissima gente che mi segue, anche dopo questo tanto tempo che non mi ha visto a campo. Quindi questo mi dà proprio la forza per continuare, per dimostrare appunto che sono tornato e che siamo tornati noi come la squadra e che possiamo fare bene. Innanzitutto, è noi che abbiamo, credo, conquistato i tifosi con la nostra prestazione, tutti abbiamo fatto bene. Sicuramente con gol sono molto felice, ma ci sono altre parti difficili, quindi oggi e domani si festeggia, ma poi per noi inizia la preparazione per altre partite. In momenti difficili è ancora più bello vincere, ti dà ancora qualche emozione in più, quindi sicuramente siamo molto felici. Abbiamo fatto vedere anche noi stessi che in questi momenti possiamo fare bene e stiamo insieme come una squadra. E' questo che conta, ora dobbiamo solo continuare piedi per terra e fare prestazioni come oggi.